Vandali in azione la notte scorsa alla villa Oberdanni a Lentini. I deppisti, servendosi probabilmente di una fune, non hanno esitato a tranciare un grosso ramo d'albero con il rischio anche di finire all'ospedale. Il raid pare sia avvenuto verso le ore 3 del mattino, quando cioè gli abitanti del Grione hanno avvertito un forte rumore provocato appunto dalla caduta dell'albero. Villa Oberdanni costituisce un punto di riferimento importante per gli abitanti del centro storico, anche se da diversi anni viene lasciata dal comune nel più completo abbandono. L'ennesimo caso di deppismo è stato segnalato oggi alle comune, ma nessun intervento è stato eseguito anche per mettere in sicurezza la zona. Il ramo gigante staccato dall'albero infatti continua ancora a dominare la scena.